Benvenuto al Bounce di Abu Dhabi, se ti ricordi non siamo nuovi a questi posti dove si può saltare come pazzi in libertà perché come vedrai comparire qui in alto da qualche parte ci siamo già stati in Spagna in una struttura del genere, divertentissima per i bambini per saltare a più non posso, c'è anche una zip line, la parte più bella è la in fondo giudizio ovviamente, è la in fondo dove si può saltare e atterrare su quel cuscinone quindi si possono provare tutte le capriole del mondo e tutti i trick e tracchettroni possibili, immaginabili l'ingresso è a pagamento e ovviamente costa un sacco di soldini, due adulti e un bambino spendono 60 Euro, qua veramente negli Emirati qualunque cosa tu faccia costa un sacco di soldi questo è l'ingresso del Bounce qua al Marina Mall di Abu Dhabi, un bello scivolone proprio per entrare e poi per andare a saltare in assoluta libertà e si salta, si salta, siamo sempre tutti un po' bambini, loro sicuramente di più qua al Bounce di Abu Dhabi, alla grandissima se vogliamo fare anche due tiri a canestro sulle reti usando la palla, ma certo siamo qua anche per questo, uno, due, tre, canestro quasi abbiamo anche una slackline dove esercitarsi in tutta sicurezza perché quando si cade c'è il cuscinone, per i più virtuosi qua c'è anche il cuscinone galattico con rincorsa sulla rete e anche qui papam va la capriolone in tutta sicurezza, là anche curiosoni che curiosano Zip line, ma si schianta alle spalle della struttura c'è anche ovviamente un bar, oltre che l'ingresso i lockers dove mettere i propri zainetti, i portafogli, cellulari eccetera